ciao benvenuti sul mio canale oggi ho il piacere di presentarvi un nuovo lavoro il cuore di pupazzi vi accompagnerò passo per passo grazie alla tecnica filmata che seguirà come realizzare questo simpatico lavoro che potete regalare per san valentino e costruire interamente con le vostre mani con tanto affetto insieme a tutti i nostri amici Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.